Musica Trovato a Campobello di Mazzara il terzo covo di Matteo Messina Denaro, fino a giugno ha vissuto accanto a Giovanni Luppino. Caccia al tesoro di Messina Denaro, al setaccio il giardino del terzo covo e la casa della mamma di Andrea Bonafede. Pietra Maggio e Pietro Polizzi fanno un appello a Messina Denaro, facci sapere dove è Denise, siamo convinti che lui sappia cosa è successo 18 anni fa. A Trapani allerta meteo, chiuse ville e cimitero ma non le scuole. Ben trovati ad un nuovo appuntamento con il Tg8 Informazione in studio Alessandro Quarrato. In apertura entriamo subito nel vivo della cronaca con le ultime novità che riguardano la cattura di Matteo Messina Denaro. Proprio ieri sera intorno alle 19 la polizia di Stato ha trovato a Campobello un nuovo appartamento che sarebbe stato abitato almeno fino al giugno dello scorso anno da Messina Denaro. L'appartamento si trova proprio a fianco a quello di Giovanni Luppino, l'uomo che è stato arrestato come autista dell'ex latitante. I poliziotti del servizio centrale operativo hanno scoperto un altro covo a Campobello di Mazzara in cui avrebbe vissuto il boss Matteo Messina Denaro. Si tratta di un appartamento al civico 260 di via San Giovanni. Ad aprire l'immobile alla polizia è stato il fratello del proprietario, quest'ultimo da 40 anni vive in Svizzera. Il terzo covo è stato perquisito ed è vuoto. L'appartamento è in vendita. Al civico 262, dunque accanto, abita Giovanni Luppino, l'autista che ha accompagnato Matteo Messina Denaro alla clinica La Maddalena. Luppino ieri nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha detto di avere conosciuto Matteo Messina Denaro con il nome di Francesco, quale cognato di Andrea Bonafede. Almeno questo, a suo dire, gli riferì lo stesso Bonafede. Ora si scopre che per un periodo avrebbero vissuto fianco a fianco. In quella casa il latitante sarebbe rimasto probabilmente fino a giugno. Poi il trasloco alla casa in via CB31. E sempre in merito a Messina Denaro, continua la ricerca di eventuali beni o tesori preziosi o documenti che lo stesso potrebbe aver occultato. I carabinieri del RIS questa mattina sono tornati nella casa della madre di Andrea Bonafede, dell'uomo che ha prestato la sua identità al capo mafia e l'immobile da tempo disabitato perché la signora si era trasferita a casa della figlia. Gli investigatori della polizia stanno esaminando anche ogni centimetro non solo dell'abitazione ma anche del giardino annesso accanto a questo immobile al civico 262, come dicevamo, c'è la casa nella quale vive Giovanni Luppino. E proprio di Giovanni Luppino ieri si è tenuto l'interrogatorio, l'autista è stato sentito dai magistrati e si è difeso dicendo di non conoscere l'identità di Messina Denaro. Vediamo i dettagli. Nell'aula bunker del carcere palermitano Pagliarelli, Giovanni Luppino ieri si è presentato per l'udienza di convalida dell'arresto. Il 59enne di Campobello di Mazzara ha accompagnato il boss Matteo Messina Denaro lunedì scorso alla clinica Maddalena di Palermo. Ora è indagato per favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena. La pena sono gli ergastoli a cui era finora sfuggito il padrino corleonese. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Piero Padova ha chiesto la convalida dell'arresto. Il GIP Fabio Pilato ha deciso che Luppino deve restare in cella. Non sapevo che fosse Matteo Messina Denaro, solo un pazzo avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che si trattava del boss, ha detto Luppino. Ha raccontato di essere stato avvicinato da Andrea Bonafede, l'uomo che ha fornito la falsa identità a Messina Denaro. Gli sarebbe stato presentato come suo cognato. Lunedì mattina, intorno alle 6, se l'è ritrovato davanti mentre andava a lavorare nella sua piccola impresa che vende olive. «Sto male, non ce la faccio a guidare la macchina, mi puoi accompagnare?» gli avrebbe chiesto il latitante, più o meno con queste parole. Torniamo a parlare invece di Denise Pipitone, Piero Amaggio e Piero Pulizzi, genitori biologici della bambina scomparsa il 1 settembre di 18 anni fa, hanno lanciato un appello a Matteo Messina Denaro. Chiediamo un miracolo ma vogliamo provarci. Chiediamo a Matteo Messina Denaro o a chi per lui di farci sapere dove è nostra figlia. Lo hanno detto Piero Amaggio e Piero Pulizzi in un'intervista al corrispondente dell'ANSA. Siamo convinti che lui sappia cosa sia successo 18 anni fa, non perché lo riteniamo responsabile del fatto, ma perché siamo certi, dicono Amaggio e Pulizzi, che non si muoveva foglia sul nostro territorio che non fosse di sua conoscenza, a maggior ragione trattandosi di un fatto estremamente anomalo come il rapimento di una bambina che a causa di tutto lo spiegamento di forze dell'ordine in quel periodo avrà dato non poco fastidio ad alcuni se non allo stesso Messina Denaro. Chiediamo un ultimo atto di redenzione da parte sua a nome di nostra figlia Denise nei confronti di tutti quegli innocenti morti ammazzati. Continuiamo ancora a parlare di Messina Denaro, in questo servizio vi raccontiamo il ritrovamento del libro mastro di Matteo Messina Denaro. I carabinieri hanno in mano il libro mastro di Matteo Messina Denaro. È un'agenda con dei fogli bianchi su cui il padrino trapanese ha appuntato sigle, nomi e cifre. È stata trovata nel corso della perquisizione nella casa di via CB31 dove il latitante ha vissuto nell'ultimo periodo e non è tutto, l'abitazione si sta rivelando una miniera di informazioni sul conto di Messina Denaro. In un vano nascosto alla vista c'erano degli altri appunti, fogli singoli e post-it in cui si fa riferimento ad una rete di relazioni. Sono appunti che partono dal 2016 per giungere fino ai nostri giorni. Alcune annotazioni riguardano i rapporti fra il latitante e diverse donne, ma ci sono anche riferimenti ad altri personaggi. Si guarda con attenzione al mondo della borghesia, delle professioni sanitarie e della politica. Nel libro mastro c'è una sorta di contabilità in cui Messina Denaro fa il punto su entrate e uscite. Cifre notevoli che potrebbero riferirsi a investimenti. Si aprono alcune piste che conducono certamente a luoghi in Italia, ma non si esclude all'estero. Di soldi nel piccolo ma ben curato appartamento a pochi passi da una delle strade principali di Campobello di Mazzara non ne sono stati trovati. E allora il pensiero va subito alla camera blindata individuata nella casa di Enrico Risalvato, dove carabinieri e finanzieri hanno fatto irruzione 48 ore dopo l'arresto di Messina Denaro. Anche lì non c'era denaro, ma non si può escludere che sia stato portato via in fretta e furia. Nella camera blindata nascosta dietro un armadio, gli esperti del RIS hanno isolato delle impronte digitali. Se appartenessero a Messina Denaro ci sarebbe la conferma che a casa Risalvato Messina Denaro conservava qualcosa a cui teneva particolarmente. Gli accertamenti sono ancora in corso. Gli uomini della scientifica setacciano il covo di via CB31. Il lavoro del procuratore Maurizio De Lucia e dell'aggiunto Paolo Guido è solo all'inizio. Cambiamo argomento. Un autobus pieno di studenti di una scuola di sciacca si è ribaltato in Slovacchia. Stanno tutti bene, per fortuna sia gli studenti e i docenti del liceo scientifico Enrico Fermi che sono rimasti coinvolti in questo incidente stradale. La dirigente scolastica e un professore sono rimasti levemente feriti e le loro condizioni però non destano alcuna preoccupazione. La scolaresca era tra i 38 passeggeri a bordo di un pullman che forse per colpa dell'asfalto reso viscido dal ghiaccio si è ribaltato su un fianco dopo che l'autista in condizioni di scarsa visibilità si sarebbe accorto improvvisamente della presenza sulla carreggiata di un'auto ferma. In totale feriti sono cinque, tutti lievi, tra loro anche come dicevamo la dirigente scolastica Giussi Di Liberto e un dirigente dell'istituto Fermi. Guasto ha un passaggio a livello, treni soppressi in tutta la linea del Trapanese, continuano a ripetersi i disservizi sulla linea ferroviaria che attraversa la provincia di Trapani che ormai da consolidata consuetudine. I pochi passeggeri pendolari questa mattina dagli altoparlanti di tutte le stazioni ferroviari hanno scoperto che la corsa che stavano aspettando avrebbe subito i ritardi o che addirittura era stata soppressa. Questa volta però almeno agli utenti è stato comunicato il motivo, si trattava di un guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Petrosino e di Mazzara del Vallo. Si consiglia ai pendolari o a coloro che oggi dovessero aver bisogno di prendere il treno, di consultare il sito delle ferrovie oppure di fare attenzione agli annunci resi noti nelle stazioni. Il comune di Trapani ha reso noto che in considerazione del forte vento di burrasca previsto in città con la diramazione dell'allerta meteo gialla dalla parte del Dipartimento regionale di protezione civile, nella giornata di oggi le ville, i giardini e il cimitero comunale rimarranno chiusi. Restano aperte invece le scuole in cui le lezioni si sono svolte regolarmente. Due giovani persero la vita in un incidente nel 2003. Il comune di Castelvetrano è stato condannato a pagare oltre 200 mila euro di risarcimento. Sentiamo. Il comune di Castelvetrano condannato a risarcire il genitore di una vittima da incidente stradale per 214 mila euro più interessi. E' questo il verdetto della terza sezione civile della Corte d'Appello di Palermo che ha ribaltato il verdetto in sede civile del Tribunale di Marsala che respinse la richiesta di risarcimento danni condannando il genitore al pagamento di circa 6 mila euro di spese legali più interessi, ritenendo che chi avviava la causa doveva individuare la controparte responsabile, il comune di Castelvetrano, Campobello o Anas. L'incidente stradale in questione si verificò la sera del 29 agosto del 2003 tra Castelvetrano e Campobello di Mazzara, non lontano dal passaggio a livello e in quell'occasione morirono il 29enne Roberto Giunta e il 17enne Giuseppe Piazza. I giovani erano a bordo di una moto di grossa cilindrata guidata dal Giunta, il quale in un curvone senza illuminazione pubblica, segnaletica, guardrail e finita fuoristrada, perse il controllo del mezzo e i due giovani dopo un volo di diversi metri finirono per schiantarsi contro un muro in pietra che delimita la linea ferrata. L'ospedale di Pantelleria è al collasso a causa dell'assenza degli organi preposti. Dai colloqui intercorsi in questi giorni con l'ASP di Trapani da parte dell'amministrazione comunale Pantesca, appare evidente che le criticità denunciate in questi anni persistano e si dipingono un quadro a dir poco allarmante per la comunità isolana. Rischiamo di perdere la chirurgia, il CUP non funziona al 100%, telefoni e telecamere da anni spesso non funzionano, abbiamo strumentazioni di ultima generazione senza i medici necessari, i Panteschi anche solo per una semplice radiografia sono costretti a partire per la terraferma. Queste le parole del sindaco di Pantelleria. Nel 2019 un insegnante di Salemi morì in ospedale a Castelvetrano. Ieri ha preso il via il processo, 12 sono gli indagati. Sentiamo. Ieri è iniziato a Marsala il processo per responsabilità medica che vede imputati 12 medici in servizio presso l'ospedale di Castelvetrano. L'udienza preliminare si è tenuta dinanzi al GIP, la dottoressa Amato, la quale ha dovuto decidere su alcune eccezioni preliminari sollevate dagli avvocati degli imputati per poi ammettere le costituzioni di parte civile dei quattro fratelli della vittima. I fatti risalgono al mese di giugno 2019, quando Francesco Carbonello, di 55 anni, insegnante di Salemi, è stato ricoverato nel reparto di medicina del presidio ospedaliero di Castelvetrano per un attacco di colite acuta. Dopo oltre dieci giorni di ricovero, però, le sue condizioni non accennavano a migliorare, per cui è stato trasferito nel reparto di chirurgia del nosocomio di Castelvetrano, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici, l'ultimo dei quali gli è stato fatale. I familiari hanno subito avuto alcuni sospetti sulla morte del proprio congiunto, per cui hanno sporto una denuncia querela contro i gnoti, e da cui è scaturito il processo penale a carico di 12 persone tra medici e personale sanitario dei reparti di medicina e chirurgia. Il pubblico ministero, la dottoressa Rana, ha quindi disposto l'autopsia e l'equip medica guidata dal professore Paolo Procaccianti, ha eseguito l'esame autoptico e ha accertato alcune gravi condotte omissive a carico dei sanitari coinvolti nella vicenda, ritenuti a vario titolo responsabili della morte del paziente. Ora il processo è stato rinviato al 23 febbraio prossimo per decidere sull'istanza avanzata dai legali delle parti civili di citare l'ASP di Trapani e dagli avvocati degli imputati che hanno chiesto di citare le assicurazioni dei medici, quali responsabili civili tenute all'eventuale risarcimento del danno derivante dalla morte di Carbonello. Il futuro della pesca è una delle nostre priorità, lo ha detto il sindaco della città di Mazzara del Vallo, Salvatore Quinci, che insieme ad una rappresentanza dell'organizzazione Armatori Liberi si è recato a Roma per discutere dei problemi della marineria e al contempo proporre soluzioni concrete. La collaborazione con le istituzioni nazionali è costante ma necessaria per proteggere i nostri pescatori e tutto il settore ittico, ha detto Quinci. Ringrazio per il profico incontro il direttore generale della pesca e dell'acquacultura del Ministero, Riccardo Rigillo, e il sottosegretario di Stato, Patrizio Lapietra. Rimaniamo a Mazzara perché sono stati destinati i contributi all'associazione sportiva e dilettantistica. A bilancio ovviamente vanno presentate le istanze entro il prossimo primo marzo. Tutte le società sportive e dilettantistiche con sede legale nel comune di Mazzara del Vallo per la stagione agonistica 2022-2023 potranno presentare la richiesta all'albopretorio online. È pubblicato l'avviso a firma del funzionario comunale Rosario Salafia. Le istanze vanno indirizzate al dirigente del primo settore, servizi sociali, educativi e culturali, ufficio sport, turismo e spettacolo. Ci spassiamo a Trapani nel prossimo anno all'università. I corsi, che attualmente sono nove, diventeranno 17. Tante le novità. Ascoltiamo tutti i particolari. Il prossimo anno l'università di Palermo potrebbe aprire ben nove corsi di laurea nuovi. Nel dettaglio, laurea triennale tecnico di laboratorio biomedico, tecnico di radiologia, tecnico in biotecnologia da scienze biologiche, scienze motorie, biodiversità innovativa, scienze della formazione primaria, agraria, sistemi agricoli mediterranei internazionali, agraria, agricoltura, ambiente e gastronomia, corso di laurea magistrale in comunicazione del gusto. I nuovi corsi si svolgeranno presso il complesso Principe di Napoli. Con una delibera di giunta, il Comune di Trapani infatti è pronto ad affidare la struttura dopo l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso. L'accordo, una volta siglato, sarà valido per 15 anni, a condizione che per tale periodo rimangano attivi un numero di corsi di laurea almeno pari alla metà di quelli individuati. Per la prima volta, inoltre, si mette nero su bianco sulla delibera di giunta quali saranno i papabili nuovi corsi che si svilupperanno al Polo Trapanese. Nove in totale che si aggiungono agli otto già attivi, una offerta praticamente raddoppiata. Saranno a carico dell'Università tutte le spese relative a manutenzione ordinaria e straordinaria, energia elettrica, riscaldamento, acqua e ogni altra utenza e alla scadenza dell'accordo i locali dovranno essere lasciati sgomberi da qualsiasi materiale rifiuto. Saranno a carico, inoltre del comodatario, i lavori connessi alle migliorie che vorrà apportare al Principe di Napoli per poter utilizzare al meglio i locali concessi, comprese le modifiche strutturali necessarie a dotare l'immobile di aule didattiche aventi i requisiti previsti per l'espletamento dei corsi universitari. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di miglioria, l'Università di Palermo in ogni caso dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Trapani. Le migliorie che verranno eseguite resteranno acquisite al Comune di Trapani, senza obbligo di compenso, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere il ripristino dei luoghi nello Stato in cui questi li ha ricevuti. Tra gli accordi però c'è anche una postilla particolare che emerge dalla delibera di giunta. Per tutta la durata del comodato d'uso, l'Università degli Studi di Palermo si impegna a fornire al Comune di Trapani consulenze di natura tecnico-giuridica sulle attività previste dal PNRR. Insomma, una collaborazione piena anche in ambito tecnico in vista di una nuova stagione. Per il secondo anno consecutivo torna a Campobello di Mazzara il corso di alta formazione sulla potatura e la gestione dell'oliveto. Un evento rivolto sia agli amatori che curano piccoli appezzamenti e vogliono imparare le basi di una corretta gestione, ma anche ai professionisti desiderosi di aggiornare le proprie conoscenze nel settore olivicolo. Gli argomenti oggetti del corso contemplano varie tematiche, il suolo, l'irrigazione, i trattamenti, la concimazione e la potatura. Verranno trattati argomenti di fisiologia dell'olivo, di corretta esecuzione dei tagli, la gestione della chioma, gli adattamenti funzionali alla raccolta, ma anche il rispetto del territorio e l'importanza delle varietà locali. Seguirà un ampio spazio dedicato alla pratica sulle piante di ogni età, agendo sempre in totale sicurezza. Il corso si svolgerà nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 febbraio 2023, con una sessione teorica la mattina nell'ex chiesa della Dolorata a Campobello di Mazzara, mentre nel pomeriggio del 2 e nella giornata del 3 i corsisti si concentreranno con la pratica sul campo, approfondendo altri argomenti. In occasione della ricorrenza del santo patrono della Polizia Municipale, che è San Sebastiano, questa mattina alle 10.30 presso la Basilica del Santissimo Salvatore è stata celebrata la Santa Messa da Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Mazzara del Vallo, Monsignor Angelo Giordanella. Erano presenti i rappresentanti dell'amministrazione del Consiglio Comunale con il Sindaco, il Comandante Bucca e il personale di Polizia Municipale. E sempre a proposito di Vescovo, Giordanella ieri ha portato il suo saluto al Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, due momenti di incontro e di confronto con il prelato, il primo insieme alla Giunta e alcuni consiglieri, il secondo in aula consigliare insieme ai dipendenti comunali. A 15 giorni dall'avvio della stagione invernale dei saldi, Confesercenti Sicilia traccia un primo bilancio. Vediamo. A 15 giorni dall'avvio della stagione invernale dei saldi, Confesercenti Sicilia traccia un primo bilancio. Il giudizio è unanime in tutte le province siciliane, seppure con qualche lieve differenza. La ripresa attesa dopo gli anni 2020 e 2021 falsati dalla pandemia non c'è stata e le vendite si assestano ancora sotto rispetto al 2019, considerato da tutti l'anno della normalità. Sul mancato successo dei saldi invernali 2022 hanno inciso vari fattori, tra cui il clima che ha toccato temperature primaverili fino a qualche giorno fa. L'anticipo dei saldi al 2 gennaio ha inoltre frenato gli acquisti di moda come regalo da mettere sotto l'albero e gli acquisti personali. A Catania, dopo l'entusiasmo delle prime 48 ore, l'euforia per i saldi si è spenta e nessuna fila alle casse o ai camerini, neppure a Palermo, già a partire dal quarto giorno di saldi. La vivacità dei primi giorni non basta a segnare un'inversione di tendenza, soprattutto per le piccole aziende a conduzione familiare che con questo andazzo sono destinate a restare ai margini e chiudere. A deludere sono anche i saldi in provincia di Messina, terza città metropolitana. Insomma, il boom atteso non c'è stato e il bilancio negativo non risparmia neppure le altre città dell'isola, Trapani, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna e Agrigento. La merce in saldo resterà in vendita fino a marzo per lasciare poi spazio alle nuove collezioni primavera-estate. Un applauso ed un mazzo di fiori per l'operatrice sociosanitaria Liliana Dincerto si è tenuto ieri all'interno dell'aula consigliare alla fine dei lavori del massimo consesso civico. Una forte emozione per la stessa operatrice che ha salvato un sessantenne mazzarese che nella giornata dell'Epifania stava per lanciarsi dal quarto piano dell'ospedale di Castelvetrano dove era ricoverato. A volere questo incommio pubblico per primo l'assessore Filippo Foscari che ha raccolto l'immediata disponibilità del sindaco. Ed in chiusura parliamo di calcio con la diciottesima giornata del campionato che si terrà domenica 22 gennaio con inizio alle ore 15. Queste le gare Casteldaccia-Marineo, Don Carlo-Misilmeri-Castellammare, Enna-Gela Football Club, Leonfartese-Profavara, Mazzara-Parmombal, Nissa-Acragas, Resultana-San Lorenzo-Mazzarese, Sciacca-Cus-Palermo. Era questa l'ultima notizia per l'edizione odierna. Nel ringraziarvi per aver scelto la nostra informazione vi diamo appuntamento con le prossime edizioni. Nel ringraziarvi per aver scelto la nostra informazione